Ciao! Lunedì sera non sapevo se guardare le Iene oppure Pechino Express che quest'anno è noiosissimo quindi cosa ho fatto? Nel dubbio si fanno gli ordini Ho fatto un ordine su Ecco Verde Ho mandato un messaggino alla mia amica Flavia e anche lei doveva comprare due cosine quindi abbiamo detto ok, faccio subito l'ordine che così mi arriva velocemente Oggi è mercoledì mattina, il pacchetto è già qui Vi dico che ho comprato sei oggetti, sei cosette e ci sono rimasta malissimo nel vedere un pacchetto così piccolo perché ho sempre ricevuto pacchi molto più grandi C'è anche da dire che abbiamo preso sei cosette piccoline quindi che delusione Non conoscerete la presentazione di un pacchetto di Ecco Verde si presenta così con della carta da pacchi come un ballaggio interno e a volte del pluriball, ma non era vietato il pluriball adesso? Non lo so Le prime due cose che vi mostro sono mie tutte e due È un olio essenziale all'eucalipto della Biopark Cosmetics Volevo usarlo per metterlo sui brucia essenze, brucia oli, quelle cose lì Cioè dovrò ben capire se gli oli essenziali si mettono su delle... come si chiamano? Brucia essenze particolari, quelli per oli Io questa cosa non l'ho mai capita Però nel dubbio troverò dei metodi per profumare l'ambiente con questo Che è la cosa che adoro di più in assoluto Sono 10 ml di prodotto ed è costato pochissimo Solo 3,69 euro Io vi consiglio caldamente di provare ad acquistarle Adesso la prima volta che lo... anzi guardate Tanto lo devo aprire quindi È diversa sull'odore dell'eucalipto forse Beh però è buono È buonissimo Questo invece è uno spray profumatore per ambienti Non scherziamo? No è buono invece È buonissimo, sta tanto di arancio È della marca Primavera Che è la marca che fa oli essenziali Sono 30 ml e costa 4,99 euro Però vi posso dire subito che c'è qualcosa che assolutamente non mi sta piacendo Nel senso che sul sito di Ecco Verde danno come ingredienti Arancio bio Lizea bio Che non so cosa sia Lizea Frangipani Etch Alcol bio acqua Qui sono gli ingredienti dichiarati da Ecco Verde Questo invece è quello che c'è scritto Ed è scritto in tedesco Per cui Alcol bio Acqua Basta, sì Orange bio Lizea Frangipani ABS Che non so cosa voglia dire Control Quindi sul sito c'è scritto come primi ingredienti C'è un ordine di ingredienti completamente diverso Sta cosa non mi piace Perché mentre sul sito l'alcol è al primo posto Qui l'alcol è al primo posto Questo non va assolutamente bene Infatti penso scrivere ad Ecco Verde Sta cosa qui non mi piace Presentano un prodotto che non è quello che mandano Altro prodotto che è arrivato È questo pennello Della Benecos Ed è per Flavia È piccolissimo Ed è per il blush Secondo me Sì Il costo è di 7,49 euro È un po' piccolino Flavia Ma forse è comodo Poi abbiamo preso tutte e due Una crema della Dr. Scheller Scheller Non lo so Lei ha preso una crema Jojoba Anzi jojoba E olio di amla Ed è una crema 24 ore Idratante Vediamo Idratante e calmante Effetto massimo con olio Vabbè Da applicare mattina e sera Senza siliconi Eccetera 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 Io ho già utilizzato creme di questo marchio qui Di questo produttore qui E mi sono sempre trovate abbastanza bene Il costo di questa crema per 49 ml Anzi no 49 grammi È di 9,99 euro Io invece ho preso quest'altro Quest'altra crema Sempre dello stesso marchio Anti-age Oh 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 Eh sì vabbè Fra pochi giorni compio gli anni Tanti Quindi Scusami Alter-age Ah sarebbe indicata dai 40 ai 60 anni Giustamente io essendo Prossima ai 40 come dice Marco Ma secondo me Appena poco più che 30 anni La utilizzerò lo stesso È una crema anti-age Anti-pigmentazione giorno Per questo l'ho presa Per andare a schiarire un pochettino il viso A me non piace il viso Abbronzato Non mi piace il viso con le macchie Ho una macchiolina qui Voglio proprio provare questo effetto Effetto anti-pigmentazione Vi farò sapere anche perché sono curiosa anch'io Il costo della crema mia È di 15,99 euro Altra figatina che ho comprato È della CMD Che è un altro marchio Che ho sempre Ho utilizzato più e più volte Mi sono sempre trovata bene È un balsamo all'eucalipto Da viaggio Vediamo se riuscite a vederlo Non lo so Vorrei mettere un macro Vabbè Sono 5 ml Ma costa pochissimo Costa 1,99 euro Ve lo apro Questo praticamente si utilizza così Quando avete il naso chiuso Ve lo mettete qui sotto E vi aiuta a liberare un po' Io amo anche la crema al timo però Secondo me è da viaggio Questo è meraviglioso I campioncini che mi hanno mandato sono Crema, gambe, drena lift Quindi effetto fresco della Domus Olea E poi qui mi hanno mandato Doccia cremosa al limone Crema fluido Trattamento idratante Sempre al limone della Veleda Non so Ce la divideremo anche questa Io e la Flavia A parte che Non mi sembrano i campioncini Particolarmente interessanti Quindi Niente Questo è tutto Non ho più niente Però vi posso dire una cosa Il mio ordine non era completo Nel senso Dovrò a breve fare un nuovo ordine Di prodotti che Che stupido Perché non l'ho fatto tutto? Vabbè A breve farò un nuovo ordine Di prodotti che mi serviranno Soprattutto per l'inverno Che sono Il balsamo Labbra La crema mani Assolutamente Tassativa E poi Lo shampoo Che utilizzo io Che è uno shampoo un po' particolare Niente Questo però lo farò Un po' più avanti Vi farò sicuramente L'unboxing anche di quello Mi dispiace che non sia venuto Marco a farlo Però purtroppo Lui È più al lavoro Che a casa Ultimamente Niente Questo è tutto Io vi saluto Lasciatemi un like Se vi è piaciuto Il video Se volete che io faccia Altri Altri acquisti E me li mostri E lasciatemi un commento qui sotto Fatemi sapere se avete dei prodotti Da consigliarmi Sempre che si possono comprare Su Eco Verde Perché magari do un occhio E li provo Li compro Vediamo Poi dipende se ne ho bisogno Perché io non compro cose Di cui non ho bisogno Che ne ho già abbastanza Con questo vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao